Successo netto, una prova di forza, di squadra, di solidità. Così l'immoco volley conegliano conquista all'Allianz Cloud di Milano la Supercoppa italiana, battendo 3-0 l'Igor Gorgonzola Novara in una partita da punto esclamativo. Non solo tanta Paola e Gono, 26 punti a tabellino ed MVP della finale, ma tutto ruota attorno a Volos, capace con le sue alzate di mandare in tilt il gioco avversario. Novara ha sofferto il servizio delle Pantere, Bracocevic non è ancora al top, mentre dal centro Kirichella e Velkovic confermano buona intesa. Ma non è bastato evidentemente alle ragazze di Barbolini per contrastare la forza delle Venete, perfetti in ricezione con il 41% e Costanti in attacco con il 45%. Sottotono invece l'attacco dell'Igor Gorgonzola, che non va in doppia cifra con nessuna giocatrice. Decide il match, dunque Paola e Gono, ma nei tre set Conegliano ha sempre dato la sensazione di gestire l'avversario. La stagione è appena iniziata, Conegliano e Novara hanno appena acceso i motori. Ne vedremo delle belle, ma ora il primo acuto è dell'imoco volley Conegliano, che alza il primo titolo di una stagione dove le sorprese non mancheranno di certo. Intanto Conegliano mette in bacheca la sua terza Supercoppa italiana. Chapeau e applausi.